Un'anime la condanna della comunità internazionale dopo la strage in un mercato affollato di Kostantinovka nella regione di Donetsk in Ucraina. L'attacco russo è stato definito dagli Stati Uniti e da molti paesi alleati della Nato un atto barbaro. Il raid ha fatto almeno 17 morti tra cui un bambino e una trentina di feriti. I residenti intanto sono ancora sotto shock per quello che è accaduto. L'attacco russo è avvenuto mentre il segretario di Stato americano Anthony Blinken si trovava in visita sorpresa a Kiev per incontrare il suo omologo Kuleba e il presidente Zelensky. Washington ha deciso di fornire un nuovo pacchetto di aiuti da 175 milioni di dollari per armi, comprese le controverse munizioni all'uranio impoverito per i carri armati Abrams. Nel suo consueto discorso notturno Zelensky ha ringraziato coloro che hanno condannato l'attacco missilistico affermando che l'unione di tutto il mondo contro il terrorismo russo aiuterà a salvare vite umane. L'Unione Europea condannando l'attacco ha affermato che gli autori saranno chiamati a rispondere di ciò che hanno fatto. Bruxelles ha sottolineato che Mosca continua a terrorizzare la popolazione civile ucraina con bombardamenti indiscriminati e quotidiani.